Ciao! Beh, forse è meglio farlo quando c'è già dentro lui. Space Valley! Rivenzi a tutta la valle spaziale! Non so cosa dire! È un anno e mezzo, forse quasi due anni, che diciamo che dobbiamo fare questo video e non lo facciamo mai. Anche perché poi viviamo nella stessa città, non ci voleva proprio niente a vedersi. Ma è un po' lì il limite. È così semplice che diventa impossibile. Io provo grande stima e rispetto per l'ospite che abbiamo qui oggi. Diciamolo, siamo un po' tutti. Luis T! Eccolo! Ciao, Luis! Vieni qua! Siamo un po' stretti, eh? Luis, sei lungo! Eh, senti i complimenti! Ma cosa sai tu, eh? Bene! Che cosa ti aspetti da questa giornata? Di tutto e di più. Potresti essere un pochino più drastico, per favore, che sembra di andare in città con la scuola. In realtà me l'hai scritto su WhatsApp. Vustel, cibo al testo in giù. Sei contento? Almeno un po'. Ma io sono contentissimo, guardate la mia faccia. Ok, abbiamo già capito che sarà una giornata lunga e faticosa, ma molto divertente. Non è neanche forse definibile una collaborazione, è più un Luis... Rivediamoci. Eh, anche un rivediamoci. Non tutti lo sanno, ma quelli di Space Valley sono tra i miei primi 20 fan. E infatti sono stato invitato qua un anno e mezzo fa, io ho detto sì! E poi non sono mai venuto. Perché sei uno? Vabbè, comunque siamo qua adesso. Non si vedono i capezzali attraverso la felpa? Un po' sì, eh? Beh, un po' sì. Comunque dicevo che quella di oggi non è una collaborazione, quanto più è una sfida. Sì. Oggi Luis sfida Space Valley. Io arrivo qua e conquisto. Chi? Lo spazio. Il mio cuore. Anche. Ma vuole il nostro studio? È molto bello questo studio, doveva mettere... Facciamoci un applauso per quello che abbiamo costruito. Tutti insieme! Dovete sapere, e lo vedrete nel backstage su Around the Valley, che Luis è arrivato qui e abbiamo iniziato due ore dopo a registrare, perché doveva montare un video. Quindi si è messo in un angolino della scrivania e si è messo a montare. Si sentiva a casa. Rimostra che siamo dei giovani che non si riescono mai a perdere tempo. Siccome è, non riescono ad organizzarsi. Anche. Quanto tempo effettivamente stiamo perdendo, Luis, a non dire un cavolo e a non partire con le sfide. Iniziamo! Posso dare un'evole? Si, danno qui. Ciao! La colazione... Che devo stessi provare. La colazione di Frank. Luis, inizi tu questo video. Ah, così proprio. Tre, due, uno. Volevo dire, ah! Gliela spieghi tu questa mancia. Allora, devi preparare la colazione a Frank. Ti assicuro che è un giudice severo. Ma ma, tu sai cosa mangia Frank a colazione? No. Beh, ce l'hai davanti. Ah. Come è la sensazione a stare la testa in giù? Ma è più che altro c'è una fatica ai polpacci fruttali. È che dopo Cesare dovremmo farlo anche noi, è una sfida. È una sfida che fa più punti. Dato che penso che il tuo tempo sia limitato su questo arnese, inizierei. Sì, devi preparare una spremuta d'arancia, poi spalmare la marmellata sulle fette biscottate, versare il latte dentro alla ciotola e poi ficcarci quei cereali. Semplice! Ma non devo mangiare, quindi? No, no, no. Ma tu non devi mangiare niente, devi prepararla per Frank. Ci sarà però una mancia alla fine del video, dove si mangerà un po' troppo forse. Quindi si mangerà nella mancia. Ciao, mamma. Io sono sentito tipo giapponesino. No, a me stanno scoppiando le ginocchia. Pensate che poveri la testa lì in giù. No, ho trovato il metodo. Per fare delle views, possiamo scoprirti gli addominali. Ma non so se ce li ho adesso. Qualcosa sì, qualcosa sì. Belli questi peletti. Bello! Io ho tipo 16, li ho compiando. Dai, iniziamo con questa colazione per Frank. Ah, inizio. E devi iniziare, sì. Ok, ho appoggiato la testa, sto sciurando. Mamma! Stai attento che deve essere, senza grumi. Non si può fare una spremuta senza grumi, perché le arancie sono a grumi. Questi sono coltelli affilati. Oddio, davvero è pericoloso. Voi venite a darmi dei coltelli. Ma è che è abituato, alla fine questa mancia. Pensata, data la sua predisposizione, a stare a testa in giù. Secondo me sta collassando, perché c'ha l'occhio che mano a mano diventa sempre più rosso. Questo è un procedimento forse un po' complicato. È pericoloso perché ti squizza. Allora... Aia. Scusami, come fa ad andare giù, però? Bravo! È che la fa semplicissima. Quando saremo noi a testa in giù, non andrà. È che io dopo due minuti sono già lì, che vomito. Questa scena è molto strana. Però il succo sta venendo. Avresti mai pensato? Beh sì, sì, avresti pensato nella vita. Ma sì, ma bisogna essere pronti a tutto nella vita. Io capisco che tu devi riempire un bicchiere, ma questa è che per una tannica. Versaggio è complicato. E invece? Sporgare. Il tuo cervello riesce a ragionare a testa in giù. Ah però! Bravo Luigi! Bravo, bravo! Poi andiamo a immarmellare le nostre fette biscottette. Ha detto tette. Ma noi possiamo dargli fastidio intanto. Mi sembra già gli stagli dando fastidio. Cioè noi stupriamo gli ospiti che vengono a Space Valley. Non c'è trucco, non c'è inganno. Ah, eh, questo è... Poi ditemi quando inizia la challenge difficile, eh. Perché la marmellata resta così appiccicata, scusa? Fisica. Non è fisica. Non è fisica. Io vado contro la fisica. Ragazzi non lasciatevi limitare dalla scienza. Avete presente l'aneddoto del calabrone? No, assolutamente no. Nemmeno io. Scriveteci. Ah! Mano a mano che andiamo avanti sto assumendo una posizione sempre più erotica. Il calabrone non avrebbe la struttura, ma credo sia una boiata, corporeale, aria, giusta per poter volare. Ma non sapendolo lui vola lo stesso. Ma io... Questo sono io. Tu non sai che non sei capace di fare le cose e le fai! Vuoi stare a testa in giù? Stai a testa in giù, c***o. Tutti addosso. Questa è furbizia, eh? Come cavolo fa? Noi siamo qui, lui è... È là. È là. Lui è là. Per fortuna dobbiamo farlo dopo perché copiamo. Ma... Fai la stessa cosa con l'atto e lo apri a testa in giù direttamente. No. No. Io proverai. Come credi? Come credi? Ma perché? Perché? Come fa? Perché? Cioè scende anche piano. Cioè ha causato lentamente. La cosa più logica era che esplodesse. Bravo! Bravo! Io mi prostro! Voilà! E anche oggi, come sempre, Luis ci stupisce tutti. Frank, vieni qui! Io mostro le mie vene del collo. Ti stai esplodendo la faccia. Vai, Frank. Due. No. Distrugge tutto questo. Scusa, ma due su quanto? Su cinque. Ma come? Mi sembrava così... È morto. No, no, no. Avevamo altre cose da fare, dopo, molto belle, ma le facciano da soli. Come fa il liquido a salire? Mi sembra di fare bello pappa. Mi sembra di fare bello pappa. La scena... Ciao amici! Eh, mi sentite una barba? Io così... Se lo so di... Kashmir. Ho due grossi problemi. Per cui andrò molto veloce. Sì, sì, ne sono solo due. Penso mi esploda la testa e soprattutto i miei occhiali cadono. Noi dopo due secondi siamo rossi. Oddio, no. Io sto morendo, Cesare. Non so cosa fare, io te lo giuro, non so che cosa fare. Mi aiuti, Luis. Ma come faccio? Ma comincia già! Vado, parto! Comincia a preparare la colazione per Frank. Non vedo niente con gli occhiali così, ma io mi taglio le mani. Boccia! Fa un tremendo odore di... No, è adesorante. Perché questa cosa? Perché devo andare veloce! Ma non c'è tempo, scusate. Voglio! Non c'è tempo. Il tempo è la mia vita! Ti stai rendendo conto cosa stai facendo, per favore? Luis che è ipnotizzato dalle tue gesta. Ha smoccolato tutto dentro alla ciotolina per i cereali. Succo fatto! Ma non altro! Attento! Ma questa è la cosa più facile, perché in realtà la vedo dritta. Io la vedo brutta. Ok, ok. Sai che non credo di aver mai spremuto un'arancia in vita mia. Ma chi è che si spreme le arance? Puoi comprare il succo già fatto. Ecco. Ma ti rendi conto di quello che sta facendo? Vabbè, io gliela do su. Passo a qualcosa di più facile. Dai, cereali. Cereale nel succo d'arancia. Cavolo, è entrato tutto dentro! Ma sei scemo? Se io lascio la roba molle... Sì. Grazie. ...la forza di gravità dovrebbe tenerla dritta. Cos'è la roba molle? Sta dritta, nel senso... Mi stanno per cedere le caviglie. No, 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 qui fa il danno. Io mi allontano. Versaci il succo di mucca. No, no, no. Mi sta schizzando in faccia. Ce l'ha sul capello. E va. Allora. Fatta! Non riesco a commentare. Credo di avere troppo sangue in questa parte di corpo. Ma questa vena com'è? Quella vena lì sta in grandezza. Dog. Adesso sei un bambino. Ho finito. Frank. Ma cosa significa? Ma questo cos'è? Buona sta marmellata. Frank! Non ho tanto tempo qua! Cioè io ho preso due. Secondo me è più golosa la mia. Dai. Devo dare un voto per forza. Mezzo. È stato tutto inutile. Mi portate su, per favore. Mi girate. Mi girate, per favore. Luis, mi puoi girare, per favore? Mi sta colando della roba nelle orecchie. Bello! Bello! Meraviglioso! Tu sei sicuro di voler rompere, vero? Confessa! Dopo che Luis ha alzato così tanto la sicella e io l'ho abbassata così tanto, puoi provare a piazzarti nel mezzo. Non ce la faccio. Ho fatto una mossa sbagliata. Cioè non so se punti che li corretti. Ho alzato la sicella e l'ho fatto così. Perché si rompe, cali di testa, ti rompi il collo e facciamo un sacco di virus. Ho una sensazione strana, è come se mi si stesse staccando la mascella. È il sangue che va nella testa. No, no, no. Dovete abituarvi, ragazzi. Ogni giorno? Quanto ci vuoi essere abituato? Ho iniziato verso gli otto anni. Ho seguito questa passione fino ad oggi. E adesso l'hai trasformata un po' in un lavoro. Obiettivi? Voglio riuscire a stare a testa in giù cinque ore almeno. Bravo! È uno stimolo per le generazioni future. Aia! Ma mi sto rompendo la faccia, non so perché. Inizia a fare sta colazione per Frank. Bravo! C'è che si fa staschillato. Mi sono un po' spresso. Mi sa che ne avete usati un po' troppi. Frank hai un po' da mangiare. Aspetta, non sto capendo. No, capisco più. Stai depensando. Oh, no. Non capisco più niente. Ma qui c'è il dosatore. Ma è rotto. C'è, la quantità di latte e cereali sembra bilanciata. È per un esercito, ma... No, no, regà, regà, mi si staccano i piedi. Cosa vuol dire? Mi si staccano i f***i piedi. Anche te però, Cesare. No, 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 regà, aveva una sensazione bruttissima. Ve lo sta giurando. Ti tengo, Cesare. Non mollare. Ti tengo. Tirami su, per favore. No, regà, veramente. Sto malissimo. Aspetta un attimo. No, ho avuto una sensazione bruttissima. C'è un problema. Si sono staccate le caviglie. C'è un problema grave. Cioè, non sento più niente. Non senti più niente, tipo, nelle orecchie? No, nelle caviglie. Non sentite dalle caviglie, eh. Ci usano queste. Smettila subito. Avete presente quando vi escono, tipo, le spalle? Cosa vuol dire? Cosa stai dicendo? Mi hai visto. No, mi si stacca le caviglie, Spacco. Mi si stacca le caviglie. Non ce la faccio. Che cacchio sta succedendo? Questo è troppo largo. Fa così. Eh, allora stringi, però. Eh, vai. Mi si blocca la circolazione. Mi sto tenendo dal portaccio. Mi fa malissimo. Ci sei, ci sei. No, qualcuno. No pain, no gain. Ma sto c***o ancora meglio. No, ti lo... No, perché vedi, non lo blocchi, Spacco. Riproci. Ci sono in tre. Avanti tutta. Avanti tutta. Ci sono i cereali dentro alla mia spremitura da grume. Ma non sono le fette mistuntate. Ops. Abbiamo perso. Ma come hai fatto, Luisa? A farlo bene prima. Ah, diretto. Così. Guarda. Oh, bella. Work smarter, not harder. A me sembra una cosa così naturale. Riesco a mangiare, bere. Fai la cacca? Devo ancora provarci. La pipì l'ho fatta a testa in giù. Sì. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non l'ho filmata. No, allora non esiste. In verticale. Spacco. Sì, sì, sì. Sente mi scusate. Non è così bella, secondo me. Ha un colore strano. Sembra un po' marcia. No, sta ritornando la sensazione alle caviglie. No, no, no. Ci sei quasi, ci sei quasi. Non riesco ad aprire. L'ultimo sforzo. Porca. Ma scusate. Maria. Che cosa sta succedendo oggi? Perché? Ma con serio? Ti sei buccato la mano? Attento, attento. Andiamo avanti. Tirami giù. Facciamo un mascotte. Tirami giù. Un mascotte deve andare avanti. Non lo so. Non lo so. Non so. Non so bloccato. Non so bloccato. L'acqua. 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 Non mi fate cadere, mi prego. Non mi fate cadere, mi prego. No, no, no. Non fare niente. Non fare niente. Non fare niente. Non fare niente. Tirami al tavolo. Vai. Tirami al tavolo. Tirami al tavolo. Pigglielo, piglielo. Se siamo tutti d'accordo, la demo persa succese. Frank, vieni dentro. Ma non venire, Frank. Non venire. Andiamo avanti. Prova il pollo. Perché sento tipo che Luigi si è irrigidito qui di fianco a me? È morto. Ah. Scusate. Sostanzialmente in questa mancia assaggeremo dei frullati. Manseremo. Dovremmo decidere, dire, capire se all'interno del frullato che stiamo assaggiando c'è o non c'è il pollo. Un pollo! Ma basta ascoltare. Dici? Dipende da come l'hanno messo. Dubito, abbiano messo dentro un pollo vivo, Luis. Oddio, è densissimo. È densissimo. Perché abbiamo deciso di fare questa sfida? Trova il pollo? L'abbiamo fatto perché Luis ha detto che mangia solo pollo. la mattina a colazione, poi a pranzo e poi a cena e poi fa lo spuntino di mezzanotte sempre con il pollo. Io sì, sì. Sono un pollo l'omane. Siamo fatti di quello che mangiamo. Io sono fatto di pollo. Chi è che l'ha detto? Albert. Chi è che l'ha detto? Sfarze. Chi è che l'ha detto? Colombo. Brescianini. Chi l'ha detto? Elettra. Possiamo partire ad assaggiare, per favore? Comunque ero io che parlavo, l'ho detto io. Partiamo ad assaggiare? Sì. Siamo di omogenizzato per bambini un po' dolce. Ma mi è entrato un qualcosa nel naso. Che spucco. Un odore fortissimo nel naso. Oddio sì. È vero sì, ma c'è del wasabi o qualcosa. Ti punge il naso? C'è quell'effetto wasabi. Non capisco perché... Ne hai mangiato altro? Lo sto leggando. Comunque sì, è omogenizzato. Sento un po' delle fibre. Posso già dare la mia... Secondo me tu devi essere l'ultimo a decretare. Devo ammettere, non è così male. Ma cosa stai dicendo? Questo è il classico alimento che una volta introdotto in bocca ti fa venire l'alito formaggino delle 7 di mattina. Non puoi parlare più con le persone, però io me lo finirei tranquillamente. Oddio, sai cosa può esserci qua? Dell'uovo. Sento che il labbro superiore sia un attimo bagnato ed è diventato subito frittata. Fa sentire? No. No, 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 Cesare. È un uomo affascinante. Io sono minorenne, Cesare. Secondo me dentro questo frullato, nonostante un leggero sentone di carne ci sia, il pollo non c'è. Carne. Carne. Secondo me qua dentro il pollo... Ma secondo me il pollo c'è. C'è? Ma perché c'era un po' la densità che il petto di pollo ti può dare? Quello stoppone che ti rimane lì, po! Ma come ha fatto? Che skill! Bravissimo! Bravissimo, bravo, Cesare! Sai fare qualcosa, grazie. Io sono convinto al 100% che qua dentro c'è del pollo. C'è? 100%? Molto convinto. Perché sentivo la stessa ruvidità che ti dava l'omogenizzato quando eri bambino. Che tu ti ricordi? Sì. Avete sentito il mio discorso da politico? Voglio candidarmi. Io vorrei che questo secondo frullato lo assaggiassi da solo all'inizio e ce lo descrivessi. Con chi parli? Con me. Con te, contenta. Mamma, io ho paura qua. Adesso poi ci stiamo tutti allitando in faccia a sta morte che abbiamo... Sì, veramente. Com'è? Dio, ma questo è muco. È muco? Per la consistenza o per il sapore? No, è buonissimo. È buono? È buonissimo. Assaggiate. A me sembra che abbiano frullato con dello sp... No! No, no. No, così non è buono però. No, non posso dire, non si può dire. Sì, ti pipiamo, ti pipiamo. Dei budini al cioccolato. E basta, questo è quello che è venuto fuori. Ma un po' di calendario dell'avvento, un po' di Pasqua. Non che abbia mai esaggiato dello sp... La consistenza è un po' dubbiosa, molto gelatina. È molto dolce, però c'è qualcosa di grumoso in mezzo. Sono convinto che dentro un frullato del genere, conoscendo il nostro staff che è un po' infamello in queste cose qua, ci vuole truccare. Dario e Tonno ci triccano sempre. Ci ha messo i criceti. No, ci potrebbe essere del pollo che però viene coperto dal cioccolato. O degli insetti. Beh, io... Metto! Metto! Dico che qua dentro il pollo non c'è. Meno tasse per tutti. Ah sì? Io dico che qua dentro invece il pollo non c'è. Secondo me invece ragazzi c'è. Il pollo qui dentro c'è. C'è tutto. Ascolta, ascolta. Io lo sento. Tu lo senti? Il duro di vongolo. Faccio una battuta. Un po' high, un po' low. Let me show how you are happy. Sono piacevolmente sorpreso dalla consistenza di questo frullato che per una volta è liquido. Ma l'hai assaggiato? No, no, lo so. No, perché l'ho messo, perché l'infamello guarda. Ma no, sto mescolando col cucchiaio. L'infamella. Comunque ragazzi, Luisa ha delle mani bellissime, volevo farlo notare. Grazie. Ma Luisa è bellissimo proprio. Le mie? No. Guardate se alzo il medio, vi spaventate. È lunghissimo. No. Assaggiamo ragazzi. Sì. Al posto di misurarci il medio. No. Sa di quello snack cipolloso giapponese che mi ha mangiato. Maria, io esco. Sa di Augmentin. No, è legale questo. Ma che... No, questo è vomito. È vomito. No, 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 no. Aspetta, datemi. Vorrei il colluttorio per... Datemi l'avvocato. No, è veramente vomito questo. Prendete il colluttorio. Sa davvero di vomito, Dio. No, portate il colluttorio. No, ma il... Se lo sento ancora sbocco, ve lo giuro. Voglio del deodorante in bocca, Dio. Il colluttorio. Per il colluttorio. Sa di sbocco proprio. No, no, è vomito. È vomito, è palesemente vomito. Ebbè, è il cibo frullato e è andato a male perché è andato a male. Il colluttorio. Sono curiosissimo di sapere che cosa ci sia dentro perché ha un sapore che... Ma vi siete tolti la mente. No, io no. Non riesco a capire se non posso essere creato. No, oddio. Ho preso il colluttorio, io. Poi tu hai preso il colluttorio? No, mi sa che ti ho preso il... No, no, è il colluttorio. Il colluttorio. Il colluttorio. Ma scusate, ma Cesare si è sbendato. Ma perché ti sei sbendato? Siamo ancora in Marche qua. Ma non mi sono sbendato. Guardate che ti do il colluttorio. È il bicchierino del colluttorio. Non mi fido. Ma perché? Del pollo ce l'ho trovato. Ma cosa stai... Ah, vabbè, ma scusa. Il pollo c'è. Dentro il vomito c'era il pollo. Io ho sentito solo succo gastrico. Per cui o qualcuno là dietro si è messo a vomitare i bicchieri per tutta la notte. No, avranno mangiato del pollo. Si è chiamato un po' e poi hai riempito i bicchieri. Ma è illegale. Io voglio sapere cosa c'è dentro. È palesemente vomito. Ci sono dei succhi gastrici. Per me non c'è il pollo. Lo senti nella consistenza. Questo è troppo liquido per esserci pollo. E' proprio un analista. In che lingua parlo? Nel primo bicchiere erano presenti i seguenti ingredienti. Stracchino, budino e tacchino. Taccchino. Ai 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 ai. Fame. Brucia. Brucia. Ma esiste una differenza tra il... Cioè avete mai sentito la differenza di sapore tra il... Guarda che trovo la scusa. Cioè sono proprio animali diversissimi. Davvero. Il tacchino è gigante. Però è brutto. Che bello grattarsi gli occhi. E nel secondo? Nel secondo bicchiere erano presenti i seguenti ingredienti. Gelato alla crema, marshmallow e cioccolata. Dolcissimo e puro nella sua dolcezza. Cioè non c'era niente. Erano i marshmallow. E il terzo? Nel terzo bicchiere erano presenti i seguenti ingredienti. Ananas. Latte. E per finire il pollo. Ho vinto? Eh sì. Hai dominato. Tre semplici ingredienti che generano il vomito. L'acidità dell'ananas simula l'acido gastrico. Latte simula uno schifo. Il più scientifico però è l'impostazione. Il pollo. Ma dov'era il pollo? Davvero non... Io l'ho sentito il pollo. Avete creato una reazione chimica probabilmente. L'ananas ha scomposto il pollo. Sì si ha scomposto il pollo. A casa. Questo possono provare a farlo. Il frullato vomito. Che è successo? Prossima manche. Scusa Luiz tu non hai mai visto un tacchino? Sì che ho visto. Chi mangia più hot dog? Hot dogs. Cesare ti devo dire una cosa. Quando hai iniziato te a fare video su YouTube? Due anni fa? Oggi. No oggi è proprio due anni che... Ma un cumpleanno! Auguri! Auguri! Il 1 marzo del 2017 ho pubblicato il mio primo video che era una challenge di cibo. Che Nelson mi linkò e mi disse guarda. Circa quindi due anni fa io sono stato a casa di Luiz e l'ho sfidato in mangiata. Abbiamo fatto un video dove mangiavamo un chilo e un chilo e mezzo di hamburger. Ho già testato quindi la potenza. Perché siete tristi? Perché ho già testato la potenza del suo stomaco. La nostalgia. La paura di questa sfida. È mega forte. È devastante. È gigante lo vedi? Ha tanto spazio. Vince chi mangia per primo 10 hot dog. E dai è poco 10. Ma insomma è poco 10 con tutto sto pane. E ce ne sono 30? Credo di sì. Credo sia impossibile riuscire ad arrivare alla fine di un video dove ci sono Luiz e Cesare insieme. Però si intendono perfettamente. Cioè non trovo un nuovo linguaggio. Ma come pensate di affrontare questa sfida? Mangiando no? Iniziamo. 3, 2, 5, 4. Il record holder che si chiama Matt Stoney ne ha mangiati una roba come tanti. Tantissimi. Sei sempre scientifico nelle due. Iniziamo. Una fame della Madonna. Fame della Madonna. Via! Ma come hai fatto? Ma guarda che Nelson è bello allenato eh. Cosa fa Nelson? Che tattica! Fa schifo ora. Fa schifissimo. Sembra di mangiare una roba rigurgitata. Scusate io sono già pieno dopo metà. Sta venendo il dubbio che nessuno possa arrivare a 10. No. Siamo a metà di 1. Ma poi perché abbiamo deciso di fare un video così trash? Di solito non siamo così trash a Space Valley. Fringiamo la roba, facciamo cose. Ma oggi ci superiamo. Ma una cosa non è trash se tu non la ritieni tale. Io la ritengo trash però. Ragazzi dove hai lo spirito di competizione? Ma possiamo anche chiacchierare tra amici eh. Non è che ci deve essere sempre questo tam tam con petre 2019? Non ne posso più. E tu voglio andare a casa? Bravo Luis che boccone! No ragazzi vi sfido. Ma che hanno già il sfido? No mi sfido, vi sfido nella sfida dai. Non sono biglietto? Vi sfido nella sfida. Ma poi ricorda. A prendere uno dog e a mangiarne un intero a foca. Ma moriamo? Non è neanche entrato. Ma ragazzi siete al secondo? Cioè. Eh sì. Non ce la fa veramente. E che dopo un po' si blocca. Finisce lo spazio. In questo video è difficile anche parlare in questa mangi. Dobbiamo macinare l'hot dog. Non lo fai. Ehi ehi. Ma cosa si vince? Cosa stiamo facendo? Dopo tutto questo dovremo registrare un salotto della valle con Luis. Quindi ci stiamo un po' trattenendo tutte le chiacchiere e tutte le domande per dopo. Lo vedrete domenica? E noi saremo morti. Saremo fatti duri. E poi vado in botta dal ciclo. Io già ora. Nelson ha futuro in queste competizioni eh. Ero dieta. Non l'abbiamo calcolato Nelson? Si. Ti vede? No io no. Lui si. Te? Io? Difficile sarà il mondo. 15 o da. Sei messo in funzione il metabolismo. Una domanda per il capello. Fai il s***o con le donne? Sì. Io sono veramente K.O. Nelson sei al terzo. Io sono il più indietro di tutti. Com'è possibile? È possibile? Intanto sto bevendo l'acqua che dentro c'ha dei pezzi di pane galleggianti. Io non bevo. Fa male. Me l'hanno detto. Ti dicono sempre non bere. Non bere. Non bevete. Cesare è in palese difficoltà. Sta per ritirare. Ragazzi a questo punto diventa chi ne mangia di più. Se non fosse una comina. Eh? Se non fosse una comina. Pensavo fosse già così. No era il primo che arrivava a 10. Mamma. È diventata una gara di pura resistenza. Ma come che c***o faccio ad essere il terzo? Ma l'ho mangiata. Sto cominciando a sentire la polvere di ossa. Io invece sai cosa sento? La leggenda che c'era in tutte le scuole medie. Della ragazza. Esatto. È quella. 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 Alla me era una zucchina. A noi non viusse. Dov'è l'artistico? No. Alle medie. Dov'è andata alle medie? Alle guinzelle. Era pieno di minorenni. Abbiamo una bandiera bianca qua. Chesi. Arreso? No. Arreso? No. No. I rutti all'affubicato che si fanno. Non è facile. Se questo video arriva a 100.000 mi piace, tutti i viussel rimanenti li mangia a tonno. Ma no. Ma perché? Ma no. Chi l'ha deciso? Io. Chi stai mangiando prima il pane? Non ho visto. Think different. Sembra che sia molle. No. Stai giocando il tutto. Sì. È difficile sperare al mondo. Come si chiama? Mahmood. Quale vuoi? Dilo, dilo. Invitalo, Luis. Dilo, dilo. Mahmood. Mahmood. Mahmood, basta. È un momento alto. Invitalo, Gesì. Mahmood. Mammaa. Invitalo, Gesì. Mahmood. Quando vuoi? C'è il conservante alcolico nei panini. Siamo ubriachi. È tutto bene. Io mi sento a disagio. Nelson parla nel sonno. Sai che se fai? Quando mi schi le lettere di qualcosa. Anagramma. La notizia. L'anagramma del mio nome. Può venire fuori sonnel. Da me viene fuori sadu. No. È difficile, ci sono un sacco di lettere. Ah, 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 ah. Io lo guarderei fai queste cose per ore. Adesso lascialo decomporre dentro. Sembra un pokémon. È difficile battere lui Aspetta Zia Ciao scusa sto filmando un video Sto finendo il quinto Chi va sano va piano e va fancur Io ho finito il quinto Se tu riesci a finire quel panino Hai vinto Io mi fermo qua Se tu non finisci quello Il tuo risultato è 5 Sto sudando freddo A perdere la valle spaziale Sto sudando freddo Li batto in casa loro No espesuali siamo abituati a mangiare schifezze Ma non a mangiare tanto Non mangiamo così mai tanto Quindi lo stiamo combattendo nel suo campo Diciamo che nei miei due anni di esperienza come youtuber Ho avuto modo di espandere l'elasticità del mio apparato digerente Così da permettermi di raggiungere obiettivi incredibili Che non mi sarei mai immaginato di raggiungere Eh Sì Sono riuscito anche a stare sulla testa per tanto tempo No io comunque no non ce la faccio Cioè stasso non ce la faccio E forse non ce la fa neanche lui Dieci le mangi? Fai spazio bravo Perché ti slacci io Non ce l'ho fatto Sei più comodo Quindi il video adesso è solo Luis Salento Salento Che roba Abbiamo un cesto di arachidi Dove è sbagliato il testo Ah se Ce la farà il nostro eroe Penso sorrento Tutto ok? Ultime masticate Voglio poterlo scendere Bravo Consello dog contro 5 Ehi 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 Mi sa che hai vinto Il vincitore della sfida è Luis Questo deve essere un messaggio chiaro e forte A tutti quelli che dubitano Che dicono Ehi ehi Hai cambiato No Io se mi prevego un obiettivo Mi sembrano finte queste sfida Sono vere Erano negli hot dog E io li ho mangiati quegli hot dog Dove sono? Non ci sono più Sono qua dentro Volete vederli? What the fuck Ma cos'è? Che cos'è? Aggrappala E pure appiccicaticcia Perché sto sudando hot dog Comunque bravo Grazie Io faccio questo nella vita Io sai cosa faccio nella vita? Vengo sconfitto da Luis Cioè È vero Luis ha portato il disagio oggi Va bene Ok Oddio santo Sì sì Nonostante il risultato Io sono molto contento Che finalmente sia riuscito a incastrare questo video E a registrare questo video con Luis Anch'io Un sacco Il problema qual è? Si vede dopo in montaggio cosa succede veramente Sì dobbiamo riuscire a capire come fare A togliere tutte le parti Che voi non avete visto Perché saranno state curate Tempo che arriviamo a questo punto Ma c'erano un sacco di cose Che non si potevano proprio metterne Ma che a 200.000 like pubblichiamo E non possiamo Sul canale di Luis Qualche riflessione su oggi Ma guarda Secondo me È importante anche Che tutti debbano Vi lasciamo il link Per il canale di Luis Qui sotto in descrizione Grazie per essere venuto Grazie a voi Ha sconfitto Space Valley Possiamo dire Sì Sei Piero Ma io sconfigo un po' tutti Nella vita Non c'è compito Vuoi far tu Dai che lo sai fare Sei mai arrivato in fondo a un nostro video Sì 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 Quindi cosa facciamo Un saluto Sì quale C'è una parola che lo accompagna Ricordatevi Arriverenze Facciamolo insieme dai 3 2 Arriverenze Come è stato Collaborare con Space Valley No no Ti prego Ti prego Avevano detto di no No basta No no Luis No Pensaci bene Non fa Tutto No No